Sono Alessandro Panchieri, accademico della Crusca, vivo a Pescara. Per me è Dante, il poeta che ha insegnato ai poeti a parlare della vita, in tutti i suoi aspetti, a cantare di dolcezza e di crudeltà, e che continua a insegnarlo a noi, umili e fortunati lettori, per gli istanti di luce e per i momenti oscuri, trasfigurando anche questi di bellezza. E perciò ho pensato di riascoltare con voi la voce delle parole di una canzone, dedicata alla passione e ai suoi tormenti. Così nel mio parlar voglio essere aspro, com'è negli atti questa bella Petra, la quale ognora in Petra maggior durezza e più natura cruda, e veste sua persona ad un diaspro, tal che per lui, o perché la sarretra, non esce di faretra, saetta che giamai la colga ignuda, ed ella incide, e non va al com si chiuda, né si dilunghi da colpi mortali, che, come avesse rali, giungono altrui e spezzan ciascun'arme. Sicché io non so da lei, ne posso atarme. Buon Dantedì.